Salve a tutti amici youtubers e bentornati dal vostro ghetto del giorno su 94 nel primo di due video che eccezionalmente ho deciso di caricarvi in questa giornata. Allora in questo video volevo dirvi la mia sull'assegnazione ormai ufficiale del pallone d'oro 2017 a Cristiano Ronaldo che ha vinto per la quinta volta negli ultimi dieci anni, dieci anni di dominio assoluto con la rivalità ovviamente storica tra Lionel Messi e appunto CR7. Ho voluto fare questo video per dirvi se secondo me questa vittoria era meritata. Allora, prima di tutto analizziamo un attimo il podio. Fuori dal podio al quarto posto c'è Gianluigi Buffon che è riuscito a vincere Scudetto, Coppa Italia ed arrivare in finale di Champions League, persa proprio contro il vincitore di questo premio. Al terzo posto invece è stato messo Neymar, una scelta secondo me che ci può stare perché per quanto sia uscito ai quarti contro lo stesso Buffon è comunque un giocatore importante e fortissimo che sia col Paris Saint Germain che con il Barcellona ha segnato il gol a Rafika ed è stato sempre decisivo quindi come scelta secondo me ci può stare perché a livello tecnico, a livello proprio generale, è un gradino sotto appunto il primo e il secondo di questa classifica. Il secondo come era preventivabile è stato appunto Messi. Diciamo che quando vince uno l'altro è sempre subito dopo. Non è quasi mai successo che per esempio Messi di Bassi primo e Ronaldo terzo e viceversa. Comunque è una lotta che vede sempre loro due qualche gradino sopra rispetto agli altri. Poi c'è qualcuno che può fare un'annata fantastica, quello ok, però non riescono quasi mai ad avvicinarsi a quello che fanno questi due giocatori con le rispettive squadre e secondo me è giusto anche il secondo posto di Messi perché comunque è rimasto decisivo, non è mai calato di rendimento, non è che uno può dire che ha fatto un'annata disastrosa perché gli annati disastrosi Messi non ne ha fatte mai. Probabilmente attualmente un'annata disastrosa sarebbe finire con 20 gol stagionali, quindi pensate come siamo messi. E quindi nel complesso, visto che ha fatto tanti gol, visto che comunque ha portato il Barcellona a vincere tante partite, è giusto che è stato messo come secondo. Però qua c'è la differenza principale con CR7, non ha portato trofei. Ed è per questo che secondo me la vittoria di Cristiano Ronaldo è assolutamente meritata sotto ogni punto di vista. Allora, tralasciando che Cristiano Ronaldo a livello tecnico secondo me è il miglior giocatore del mondo, anche se ci sono periodi in cui va meglio lui, altri in cui va meglio Messi, si alternano diciamo nella loro storia. Però a livello attuale per me Cristiano Ronaldo è una spanna sopra gli altri. È un giocatore completo, è un giocatore perfetto secondo me. È capace di fare stacchi aerei incredibili, colpi di testa, tiri potenti, tiri precisi. È un giocatore assurdo. Ha segnato valanghe di gol soprattutto nella scorsa stagione. Secondo me in questa segnazione è contato molto anche l'aspetto dei trofei perché Cristiano Ronaldo, a differenza di Messi, che hanno fatto entrambi bene, ha vinto di tutto. Perché ha vinto la Liga, la Champions League, la Supercoppa Europea. È stato decisivo per la vittoria appunto della Champions perché mi pare che ha segnato 8-9 gol dai quarti di finale fino alla finale, nella quale ha segnato anche una doppietta. Quindi io penso che più di così non poteva fare. C'è gente che lo critica perché in questo inizio di stagione 2017-2018 non ha segnato molto. Credo che ha fatto 3 gol in Liga finora, che sono pochi. Però io penso che criticare un giocatore come Cristiano Ronaldo è qualcosa di allucinante. cioè si vuole proprio dire cavolate per dare fiato alla bocca perché si può dire benissimo che non è nel suo momento migliore di forma dal punto di vista prolifico. Però dire che o non meritava il pallone d'oro o che è in fase calante o che non è più buono eccetera eccetera mi sembrano delle frasi veramente ridicole soprattutto se riferite a un giocatore di questo livello. Quindi nel complesso rispondendo alla domanda che Cristiano Ronaldo ha meritato il pallone d'oro? Io dico assolutamente sì perché ha combinato le prestazioni tecniche di altissimo livello, e quelle comunque contano, a una buona dose di trofei. Buona dose perché praticamente ha vinto tutto quello che c'era da vincere. La Liga, il campionato maggiore spagnolo, la Champions League della quale è stato protagonista e appunto la Supercoppa in estate. Quindi non c'è più nulla da dirgli. Il premio è assolutamente meritato perché in questo anno solare, se dice anno solare non lo so, non mi vorrei sbagliare, ha dimostrato di essere il miglior giocatore di tutti. Perché ha vinto, ha fatto vincere e il livello di prestazioni è rimasto sempre su livelli eccezionali, almeno secondo il mio punto di vista. Fatemi sapere invece voi nei commenti se siete d'accordo con la vittoria del pallone d'oro di Cristiano Ronaldo, fatemi sapere se secondo voi meritava Messi, Neymar, Buffon o chi vi pare. Ci vediamo presto per un altro video incentrato sui gironi della Roma e sulla squadra che io vorrei prendere appunto ai sorteggi. Un saluto e sempre Forza Roma! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao ciao, ciao! Ciao ciao! Grazie a tutti.